Il Chelsea vince la Champions League, mamma mia, che partita, che finale, veramente finale da brividi. Me l'aspettavo e lo speravo anche in una partita così bella, veramente mi sono divertito un sacco, partita bellissima, azioni da ogni parte, ogni minuto, veramente partita giocata a ritmi altissimi, non ha assolutamente deluso le aspettative, ma ne esce in trionfo il Chelsea, mamma mia, mamma mia. Io forse Tfavol City credevo anche nella vittoria del City, invece il Chelsea si aggiudica la Champions League con un gol di Kai Havertz, molto bello, bella azione, mamma mia, mamma mia che partita, ora è proprio appena finita da un minuto, ero lì alla TV a guardarla, l'arbitro fischia alla fine tutti i festeggiamenti, tutti che impazziscono, Tuchel è un grande Tuchel, mamma mia, continua a saltare, agitatissimo, incredibile, incredibile Tuchel. Partita, ripeto, bellissima, bellissima, subito con ritmi altissimi si parte con Manchester City che attacca, il Chelsea che risponde, un'azione da una parte all'altra, è veramente uno spettacolo, poi arriva il gol di Kai Havertz, il Chelsea parte da dietro, parla di Mendy, alta sulla fascia sinistra per Chilwell, Chilwell con uno stop incredibile, con un grandissimo stop di prima al volo, gioca il pallone a mount, vado avanti, uno due, no, si gioca il pallone a mount che si gira e tira una scodellata a mezza altezza per Havertz, che si era smarcato da Zinchenko, che Zinchenko lì in colazione si è addormentato abbastanza, non ha chiuso bene la diagonale, quindi Havertz è andato al centro con Ruben Dias e Stones, che erano troppo spostati verso destra, quindi Zinchenko non chiude bene la diagonale, Havertz è in vantaggio, parla per lui, uscita spericolata di Ederson, alla fine c'è un rimpallo con Ederson che la tocca con la mano, con un braccio, appena fuori dall'area, quindi nel caso non dovesse essere stato gol, Ederson sarebbe stato espulso. e quindi c'è questo rimpallo, Ederson che alla fine rimane giù, la palla che però va indietro, arriva davanti alla porta dove c'è Havertz tutto solo, che tranquillo e sereno la piazza dentro con un raso terra, poi ovviamente i festeggiamenti, bellissima azione però c'è da dire anche dormita difensiva del Manchester City. Secondo tempo, sempre ritmi veramente alti, il City che ci prova di più ovviamente che deve attaccare perché deve recuperare la partita, Chelsea invece che si chiude abbastanza e sfrutta soprattutto i contropiedi, poi tra l'altro il Chelsea è molto bravo nei contropiedi con un favoloso, strepitoso, assurdo, incredibile, un gol, Kanté, Kanté è veramente un giocatore straordinario, straordinario, l'uomo champions di questo Chelsea, mamma mia che applausi, un gol, Kanté perfetto sia in fase offensiva che in fase difensiva, tantissimi recuperi del pallone in fase difensiva anche su De Bruy, scivolate, veramente quando qualcuno lo puntava cercava di passarlo c'era sempre, lo fermava sempre e anche lì in mezzo al campo lotta anche di testa, molto bravo anche a livello aereo nonostante la sua altezza, lotta tutti i palloni, si prende i falli e anche lì in attacco comunque se la gestisce molto bene con i piedi, mette ottimi palloni per Mount, Werner, Pulisic, insomma quelli che arrivavano, veramente Kanté perfetto da otto in pagella in questa partita, veramente questa partita è il coronamento di una stagione pazzesca per quanto riguarda Angolo Kanté, Chelsea quindi che si aggiudica alla Champions League dopo essersi qualificata alle ultime giornate per un solo punto alla Champions League, quindi veramente ottima, ottima stagione del Chelsea che ha fatto un upgrade incredibile rispetto alle ultime stagioni, veramente applausi applausi a questo Chelsea, partita ripeto bellissima, vittoria meritata, forse anche il pareggio diciamo non sarebbe stato un'eresia, però comunque vittoria meritata dopo aver battuto il Real Madrid, quindi il Chelsea batte anche il Manchester City e si aggiudica la Champions League, quindi Chelsea campione d'Europa con gol di Havertz, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, e niente, mi raccomando, un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, bella ragazzi!